Una serie di stupidaggini che sono abbastanza inquietanti. In un certo senso con la cultura italiana ci si può anche mangiare, tanto bisogna conoscerla, poi ci si può anche mangiare. Dire le cose che dobbiamo dire senza la voce, non come si fa in maniera un po' populistica, come i cacicchi. Chi è che ha detto no? Io ho sentito solo sì. Mettersi dalla parte del cittadino, questo è quello che aiuta a raggiungere l'obiettivo. Senza di lui, con la confusione totale che c'è, dovremmo ripartire per molte cose da zero. Il nostro credo è che il bene culturale è la locomotiva dello sviluppo del territorio. La passione si restringe nell'ambito in cui io vivo. Uno scopre il bene anche negli occhi degli altri e diventa qualcosa che fa migliorare la propria vita. Voglio condividere con voi, miei cari concittadini, che 7 dei 13 consiglieri comunali di Teleseterme si sono recati da un notaio per sfiduciarmi. Per questo dovrò lasciare la guida di una comunità bellissima che mi ha dato l'onore di servirla come sindaco per 10 anni, vissuti con responsabilità, passione e senso civico. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Teleseterme, Pasquale Carofano, ospite dei nostri studi al quale abbiamo chiesto di rilasciare un'intervista, a darci un po' le spiegazioni di quella che è stata una improvvisa sfiducia da parte di 7 dei 13 consiglieri del Comune di Teleseterme a poche settimane dal rinnovo del mandato. Con Pasquale Carofano, che chiamerò ovviamente ancora sindaco perché a momenti dovrebbe poi intervenire il provvedimento del prefetto che dovrà nominare un commissario prefettizio per governare nel frattempo, fino a quando non ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, un commissario prefettizio che sarà appunto chiamato a governare la comunità di Teleseterme. Allora Carofano, un'iniziativa improvvisa, un'iniziativa probabilmente anche in attesa, benché ci siano state già nel corso di queste ultime settimane alcune defezioni. Ci spiega che cosa è accaduto esattamente a Teleseterme? Allora è accaduto quello che hai detto precedentemente, che 7 consiglieri sono andati dal notaio, hanno firmato praticamente la sfiducia e chiaramente nel momento in cui viene protocollata lente, è mandato in prefettura, poi siamo in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale. Diciamo tanto in attesa no, perché dei segnali erano già arrivati, era arrivato il segnale del Consiglio Comunale, della non presenza, però mi aspettavo che il tutto si concludesse in maniera diversa, in maniera aperta, mi aspettavo che il tutto si consumasse in Consiglio Comunale, a viso aperto dove i consiglieri, che potevano utilizzare il segretario generale come notaio, approvati i punti all'ordine del giorno, non dico il consuntivo che è un tema tecnico, perché si approva quello che si è fatto nell'anno precedente, però vi era un argomento molto interessante che era la variante urbanistica al piano regolatore per consentire la realizzazione del nuovo polo scolastico sul campo sportivo di Piale Europa, che tra l'altro è già avviato una gara d'appalto che si conclude tra una ventina di giorni, perché finalmente si vede realizzato il polo scolastico a Telese, che è un primo lotto, poi ce ne sarà un altro successivamente, un primo lotto è per circa 5 milioni di euro, ce ne sarà un altro praticamente di 12 nel prossimo anno e avremo una scuola degna di potersi chiamare scuola per i nostri studenti che vengono tra l'altro da tutta la Valle Telesina. Quindi diciamo che non era in attesa, era in attesa e è stata in attesa la modalità, quella di andare dal notaio, di firmare dal notaio e poi di venire a protocollare le dimissioni. Lei ha definito questo un atteggiamento che trasuda irresponsabilità, miopia, politica ed egoismo. Sì, perché onestamente a due mesi dal voto non si spiega perché si manda a casa un sindaco irresponsabilità, perché noi usciamo da una pandemia, da una serie di problematiche e io ho vissuto qualche mese veramente di grande fatica per riuscire comunque a gestire tutte le operazioni che c'erano da fare all'interno della comunità. Il tutto non è passato, potrebbe riaccendersi nuovamente, non sappiamo se succede, potrebbe succedere però nell'immediato o i primi di settembre e arrivare con una... Quindi se dovesse arrivare i primi di settembre di un'epidemia probabilmente si potrebbe anche non votare al settembre. Tra l'altro il decreto di votazione del 20 e 21 ancora non c'è per le votazioni. Quindi tutto potrebbe cambiare, potrebbe cambiare lo scenario. commissariare un comune per tre mesi non ha senso e addirittura non avrebbe senso se non si dovesse andare al voto a settembre arriveremmo praticamente al commissariamento di circa un anno del comunità di settembre. Il commissariamento è sempre un fatto non positivo perché il commissario può fare solo ordinaria e amministrazione, non può fare altro e quindi se questo dovesse accadere. Se non dovesse accadere, quindi si vota a settembre, comunque mandare a casa un sindaco per due mesi non ha assolutamente senso. Tra l'altro c'è l'apertura delle scuole, oggi avevamo un incontro con le due dirigenti scolastiche perché erano uscite le linee guide del Ministero per quanto riguarda le azioni Covid all'interno delle scuole, quindi ci sono delle problematiche che devono essere affrontate e sicuramente un'amministrazione li avrebbe potuto affrontare meglio di quelle che può affrontare un commissario che arriva. Quindi c'è il problema delle scuole, già per le vie brevi mi avevano comunicato che con le nuove direttive non c'è bisogno di altre aule. Tra l'altro io ero indicato come referente Anci nel rapporto col provviderato proprio per affrontare questa tematica, avevamo avuto già degli incontri, quindi ci sono tutta una serie di conseguenze. Perciò lo ritengo irresponsabile come anno. Ricordo tra l'altro ai telespettatori che il venir meno della funzione di sindaco di Teleseterme ha comportato anche per Pasquale Carofano la perdita della funzione di consigliere provinciale. La cosa che interessa più è sicuramente quello che sollecita più l'attenzione dei futuri elettori e comunque dei suoi concittadini. Qual è lo scenario che si può presupporre che si vada a verificare nelle prossime settimane e ovviamente quali potrebbero essere a questo punto le varie compagini e se lei si aspetta o si attende o meno da parte di quella presumibilmente opposizione che l'ha contrastata, appunto una formazione di una lista già precostituita che evidentemente l'ha poi condotta alla sfiducia? Guarda, io faccio politica da tanti anni e quando si parte troppo tempo prima 40 giorni in politica, soprattutto sotto elezione è un tempo enorme quindi in 40 giorni può cambiare tutto possono cambiare totalmente gli scenari sia da noi che nelle altre compagini che si stanno presentando. Al momento si dovrebbe andare al voto con tre liste una la nostra, quella dell'opposizione e poi quella dell'opposizione a sua volta sfiduciata è quella di Angela Bamondi la quale praticamente già qualche mese fa aveva avuto la sfiducia dei consiglieri comunali che l'avevano sostenuta alla candidatura di cinque anni fa che siede ed ha firmato insieme a loro la mia sfiducia quindi è una sfiducia nella sfiducia quindi credo che 40 giorni sia un tempo ancora molto lungo quindi ne vedremo delle belle secondo me. Che cosa ha bisogno, ovviamente ricordando sempre a chi ci ascolta che il mandato era comunque tra poche settimane a conclusione di che cosa ha bisogno Telese Terme quali sono secondo te gli interventi necessari per rilanciare il territorio e ricordo che Telese è una delle comunità più rappresentative e importanti anche in termini numerici di cittadini della provincia di Benevento Telese di che cosa ha bisogno, a prescindere evidentemente anche da una sorta di intesa maggiore anche tra le rappresentanze politiche che hanno governato e che vorrebbero eventualmente governare? Telese ha bisogno di lavorare insieme agli altri comuni come abbiamo fatto in questi anni in collaborazione per cercare di uscire fuori dal guato io ho sempre detto che se si cresce da soli si cresce a spillo e appena arriva in altezza, appena arriva il vento ti butta giù bisogna crescere facendo crescere insieme anche agli altri comuni noi abbiamo una grande sfida davanti a noi che è l'alta capacità e l'alta velocità ferroviaria che potrà dare il vero slancio alla nostra comunità perché accorcerebbe i tempi tra le aree interne e l'area metropolitana della Campania quindi Napoli e dintorni avendo una metropolitana regionale che arriva a una stazione centrale come quella di Telese Terme potrebbe portarci in 20 minuti a Napoli quindi essere nel cuore di tutte le dinamazioni ferroviarie quindi stare a Roma in un'ora, a Firenze in due ore e mezza e quanto altro il fatto di accorciare questa tempistica potrebbe far sì che tante persone potrebbero decidere di venire a vivere nei nostri territori io non penso a Telese perché credo che siamo anche abbastanza saturi dal punto di vista della popolazione ma potrebbero crescere quei paesi intorno a noi che oggi invece vivono un processo di desertificazione e crescendo gli altri comuni essendo Telese un centro nevalgio di servizi quindi essendo un polo di eccellenza sanitaria essendo un polo turistico dovuto alle terme essendo un polo di servizi chiaramente se gli altri comuni crescono noi chiaramente cresciamo a nostra volta in maniera importante quindi l'alta capacità ferroviaria è un momento importante di sviluppo la ferrovia sarà come è stato inizio secolo il vero volano di Telese Terme e lo sarà di nuovo in questo secolo la nuova rinascita poi c'è il raddoppio della Telesina quindi ci sono tante cose il collegamento con l'Adriatico che praticamente si sta lavorando ormai da anni e tutti quanti insieme con Smartland con i comuni che vanno dal Tamaro alla Valle Telesina abbiamo lavorato in questi anni per dare un futuro alle nostre comunità una domanda che le voglio fare che può sembrare particolare che cosa si rimprovera dopo dieci anni di governo di questa cittadina che cosa si rimprovera come primo cittadino qualcosa che avrebbe voluto fare che non ha fatto qualcosa che lei ha fatto e probabilmente sarebbe stato più giusto non fare brevissimamente allora io mi rimprovero tante cose perché quando si opera per dieci anni sicuramente quando poi vai a guardare quello che hai fatto ti rimproveri tante cose di sicuro non mi rimprovero l'impegno che ho dato per la mia comunità che è stato sempre costante appassionato e soprattutto ho lavorato per il bene comune della mia comunità ho lavorato sempre per i miei cittadini i rimproveri sono tanti ma col seno del poi è inutile rimproverarsi i rimproveri servono solamente per non sbagliare nel futuro e quindi farò tesoro degli errori che ho fatto due brevissimi messaggi un primo messaggio se se la sente da inviare a coloro i quali diciamo l'hanno portata a questa sfiducia ai suoi oppositori ma li ringrazio perché ieri mi hanno fatto un grande regalo la comunità mi ha attestato grandissima vicinanza solidarietà perché credo che ci sono delle cose che non si fanno in politica non è quello della sfiducia perché la sfiducia ci sta non si arriva ma si fa in consiglio comunale non si fa andando dal notaio quindi questo è il messaggio che voglio dare e ringrazio comunque coloro i quali anche avendomi sfiduciato sono stati con me dieci anni hanno collaborato con me e hanno fatto sì che si potessero fare tante cose per la nostra comunità un messaggio invece che lei intende rivolgere ai suoi concittadini li ringrazio per l'onore che mi hanno dato nel essere sindaco di Teleseterme della mia bellissima città per dieci anni li ringrazio veramente di cuore e gli chiedo scusa se qualche volta sono stato poco presente nella comunità ma perché preso dai tanti problemi che attanagliavano l'ente per la loro risoluzione lei ovviamente ci avviamo alla conclusione sarà pronto in questa fase elettorale prossima del comune quindi immagino che ci sarà una squadra che lei appoggerà quindi non lascerà sicuramente assolutamente sì e tra l'altro oggi ero stanco fino a ieri perché dieci anni di amministrazione ti stancano però oggi sono più carico di prima quindi darò una mano ai miei compagni coloro i quali sono rimasti con me e coloro i quali vogliono venire nella nostra squadra per proiettarci verso il futuro con una squadra competitiva forte e autorevole concludiamo qui questa intervista con Pasquale Carofano sindaco del comune di Teleseterme che venerdì 3 luglio ha ricevuto la sfiducia di 7 dei 13 consiglieri del comune di Teleseterme e quindi di fatto non è più sindaco della comunità telesina noi ci rivedremo senz'altro in questi studi e ci auguriamo che qui si potranno anche svolgere quei confronti che abbiamo già avuto anche negli anni passati con coloro i quali vorranno partecipare alla competizione elettorale per appunto eleggere il nuovo sindaco della comunità di Teleseterme grazie una serie di stupidaggini che sono abbastanza inquietanti in un certo senso con la cultura italiana ci si può anche mangiare tanto bisogna conoscerla poi ci si può anche mangiare dire che le cose che dobbiamo dire senza tanto la voce non come si fa in maniera un po' populistica come i cascicchi chi è che ha detto no? io ho sentito solo se mettersi dalla parte del cittadino questo è quello che aiuta a raggiungere l'obiettivo senza di lui con la confusione totale che c'è e beh insomma voglio dire dovremmo ripartire per molte cose da zero il nostro credo è che il bene culturale è la locomotiva dello sviluppo del territorio la passione si restringe nell'ambito in cui io vivo uno scopre il bene anche negli occhi degli altri e diventa qualcosa che fa migliorare la propria vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti